Mi sono venute in mente tante belle cose per voi, per esempio morte, distruzione, malattie. Il meglio di ciò che il mondo di oggi ha da offrire. Non ringraziatevi, prezzo. Chi è questo coglioncello? Non facciamoci fregare. Ehi, è quasi divertente. Avete trovato il marchigegno, ma cosa lo sbloccherà? Ok, mi sa cosa verrà fuori. Ti avviso, scrivo meglio di come dissi. Nessuno verrà fuori da quella porta. È chiusa. Se fosse qualcosa di utile, credi che te lo direi? Scopri il gusto che gli appartieri. Ci sarà da divertirsi. Per me almeno. Non sono un gran che, ma ci proverò. Ok, non sa cosa verrà fuori. Corriamoci, a favolo di parte. Ci penso. Ti avviso, scrivo meglio di come dissi. Ah-ah, diamoci dentro. Non sono un gran che ci proverò. Potrei lasciarvi fuggire. Come funziona, no? Potrei, ma non lo farò. Ancora vivi. Ci siete tutti. Il destino vi riserva ben altri piani, vero? Ehi, è quasi divertente. Diamo un'occhiata. Ok, chissà cosa verrà fuori. Cappello di Sommetà. Sarà una morte stiosissima. A me non vado, da lui sarà un'occhiata. Una porta chiusa. La mano del Fato, brava ora di scrivere la tua. Sommetà. 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 Hai un riso, Loric. Che razza di nome? Sommetà. 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 Non sopporto chi fa battute sul mio nome. Non sopporto chi fa battute sul mio nome. Sommetà. 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 Perviso, scrivo meglio di come disegno. L'ho divattivata, credo. Sommetà. 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 Ma non sopporto, non sopporto. Mi riscoltate tutta la meraviglia. Mi dollari e rimanere la telecamera. È aperta. Andiamo! Quanta fredda. Dobbiamo ancora divertirci un po'. venite avanti cerco di vedere qualcosa questo giorno si fa sempre più interessante ok chissà cosa verrà fuori nessun dolore né pentimento solo carne divenuta armi proprio un cazzo di cesso il comienzo a la morte Mi sarà al cuore. Mi avviso, scrivo meglio di come disegnano. È il caso di tirare i bon shots. Tutto pronto. Sapete che abbiamo creato tutto per provocare? Non pensavamo che ci sareste cascata. Tutto pronto. Lo ammetto. Ammiro la vostra terminazione nel distruggere le cose. Arredetemi. Trave esserci qualcosa di utile qui. Bene sia. Divertimento. Un alto rischio di finire sventrati. Vi prego, dite bonjour al nostro ospite speciale, Mr. X. Ok. Non me l'aspettavo. Non c'è. 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 Il mietitore tornerà a prenderti. Niente panico. Il tempo scorre, ma sembra che a voi non interessi minimamente Oh, merda! Tutti pronti, ragazzi? Siete pronti? Lo sapete? Quanto cazzo ci ho messo per farli? Non ci vedi bene? Dove sono i nemici? E dove gli amici? Verrà incredibile! D'accordo di voi! D'accordo! Non solo l'abbiamo scampata, ma con grande stile! La falce del mietitore vi reclamava e voi vi siete opposti! Buon per voi! Godetevi l'aria, la libertà! Presto sarete di nuovo miei!